ciao amici ci tenevo a farvi questo video per dirvi di prestare particolare attenzione con il mini 3 nel fare i range test perché il drone è già predisposto come lo era il mavic 3 nella trasmissione del drone id il drone id non quello dell'aeroscope che quello rimane e comunque continua ad essere trasmesso ma può essere ricevuto al momento solo con l'aeroscope vi rimando quindi ad un mio video ma con l'id quello automatico quello free che è stato tanto voluto da easa in cui di cui già vi ho parlato in un altro video e in cui vi ho spiegato come fare a compilare una app da installare sul proprio smartphone quella che vedete scorrere qui accanto è la registrazione che ho fatto del mio smartphone mentre facevo partire il mio drone che entra in funzione il drone id proprio quando c'è il take off del drone e si può osservare tutta la traccia fino ad un certo punto anzi addirittura è possibile cliccare sulle informazioni e ricevere tutte le informazioni del drone stesso quindi man mano che si andrà avanti dji fornirà sempre più droni con questo drone id quindi prestate particolare attenzione quando fate qualcosa di scorretto ciao ancora ciao